Oggi un'iniziativa di Forza Italia, un'iniziativa insieme a tante altre condotte dal nostro partito, insieme ai parlamentari siciliani, calabresi, ma tutti i parlamentari di Forza Italia per dire sì a un'opera necessaria, straordinaria per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno e soprattutto per il superamento del divario infrastrutturale tra nord e sud. I benefici dei ponti li abbiamo elencati, sono innumerevoli e abbiamo cercato anche oggi di sovvertire, di sconfessare tutte quelle resistenze ideologiche che hanno iniziato in questi anni il dibattito su quest'opera e forse ne hanno compromesso anche la realizzazione. Ecco noi oggi diciamo che tutto questo va superato perché non si può nel 2021 considerare ancora un'opera infrastrutturale di questa portata ideologica e quindi il messaggio che abbiamo voluto lanciare è questo, basta per i giudizi ideologici ma lavoriamo tutti sull'osservazione per realizzare un'opera che davvero sarebbe straordinariamente necessaria per il rilancio vero dell'economia del Mezzogiorno.